cari amici della scuola sarda un saluto da desolina sono insegnante non vi avevo mai detto niente ma sacco dei segreti bisentenelli tanto che cosa non diceva farsa non aveva una scuola è allora cosa dire intanto leviamo questo perché oggi stiamo lavorando stiamo lavorando e quindi vi devo far vedere oggi che la scuola sarda per imparare le parole sarde che sono molto importanti sia per i sardi che sono fuori sia anche per i sardi che sono a casa e per tutti quei continentali che vogliono imparare quelle parole che servono per scherzare con gli amici o anche per parlare seriamente e abbiamo aperto questa scuola nella campagna perché nella campagna perché non ci sono innanzitutto quelle quell'aria chiusa che ti soffoca la campagna è bella perché vedi le farfalle vedi le nuvole quando ci sono oggi non ci sono nuvole sono tutte confuse devono essere uscite chissà dove vanno le nuvole forse cercheranno le stelle chi lo sa è chi lo sa e niente quindi la campagna è bella per imparare tutto quello che c'è da imparare perché vedi una piantina perché vedi una farfalla un uccellino che vola i piccioni i colombi le tortorelle che fa che tubano che dicono le tortorelle gli dicono al maschio allora oggi parliamo del verbo essere io ve lo spiego naturalmente in locudorese perché i miei genitori erano della parte del locudore della sardegna parlavano questo locudorese non è proprio il locudoro bosa però si avvicina al locudoro e io ho imparato quel dialetto dunque andiamo a spiegare il verbo essere allora la scuola si chiama meglio tardi che dopo perché anche se impari dopo le cose non fa niente le impari anche se hai 80 anni 85 a 10 anni tutti possono imparare allora poi c'è il verbo essere il locudorese io sono è bella questa questa lingua sarda che è sembra proprio che arrivi da un'altra parte è una cosa veramente incredibile noi restiamo incantati quando una parola in inglese prende la parola sarda ad esempio saltare in inglese dicono tu giampo in sardo è giampo a misurogu in locudorese giampo a misurogu tu giampo non è facile vai 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 entra mica in petorrasa sempre locudorese quindi oggi il verbo essere è importante lo ripassiamo poi c'è il verbo essere io sono deo soe tu sei tu esese egli è issu este noi siamo no so se mus noi se mus voi siete boys sedesi essi sono issu suni o sono a seconda dei paesi viene pronunciato diversamente e allora adesso siamo attenti che abbiamo un collegamento abbiamo un collegamento esattamente da dalle parti del nuorese buongiorno a tutti gli alunni di questa scuola sono contento di essere qui con voi vengo da un paese del nuorese che non voglio dire neanche che paese è perché sono un incognito oggi vi devo spiegare il verbo essere e siccome la tecnica moderna oggi ci dà la possibilità di entrare arrivare con la televisione e anche di uscire dalla televisione buongiorno a tutti allora mi raccomando state attenti perché le parole vanno imparate a memoria ricordate l'accento importante memoria doppia m doppia m va bene allora forza del verbo essere eh eh io sono io sono Bill stormi tu sei due sese tu sei tu sei tu sia sese egli è issu un'este noi siamo noi si semmoso voi siete voi 70 essi essi sono issos sulli compreso attesi torriamo a passare voi c'è il verbo essere io sono tu sei lì noi siamo voi siete essi sono teo soe tu esessi issu este noi siamo voi esessi issos sulli grazie del collegamento ci vediamo un'altra prossima lezione allora abbiamo visto il signor Antoni Cao che arriva dal Nuorese e ci ha insegnato il verbo essere nella forma nuorese che è molto importante perché in Sardegna mano a mano che ti sposti nelle strade che ti incammini cosa succede? i dialetti cambiano prendono un altro movimento il suono cambia perché hanno diversi modi di dire hanno diversi proverbi però c'è un proverbio che è sempre lo stesso piragotte e piragrua doniuno a don Mosua questo lo dicevano quando la sera si radunavano a prendere il fresco nelle piazze seduti nelle piazze che raccontavano i racconti di quando erano bambini e i bambini ascoltavano i grandi raccontavano poi quando finiva l'orario di stare fuori a prendere il fresco il più anziano diceva allora vi ricordo ancora i verbi voce del verbo essere io sono tu sei egli è noi siamo voi siete essi sono ve lo ripeto e adesso abbiamo un altro collegamento importante dal Campidano il signor Pinuccio Mallusu buongiorno allora io sono Pinuccio Mallusu vengo da Marco Giuli sono Campidarese sono stato invitato alla vostra scuola meglio tardi che dopo per insegnare agli alunni questo mi ricorda gli alunni del sole quelli che il gruppo che cantava gli alunni però siete voi all'un e ad altri faccio anche le battute mi fanno ridere allora oggi vi devo spiegare voce del verbo essere allora come la tecnica moderna ha voluto che oggi la televisione viaggia in una maniera incredibile allora vado alla lavagna cari alunni allora abbiamo il voce del verbo essere voce del verbo essere che è campidanese io sono Deus sentite anche l'accento perché è molto importante Deus tu sei tu esesi egli è issu esti noi siamo voi siete issu punti bosatru sesi bosatru sesi e issu punti essi sono ve l'ho detto prima perché sono un po' emozionato io in televisione non ci vado mai è la prima volta che mi capita sono contento di aver fatto questo collegamento con voi mi piace molto questa cosa adesso vado aspettate un attimo allora abbiamo avuto il collegamento con il signor Marluso è stato molto simpatico che lui fa sempre le battute io lo conoscevo da quando ero bambina ha cercato anche di fornicare come per un bravo un bravo un bravo uomo un po' anziano ma ce ne sono anche più anziani che sono più furbi di lui niente cosa dire questa scuola di oggi è stata la prima lezione è stata molto bella la voce del verbo essere intanto voglio salutare tutte quelle persone che ci stanno seguendo su instagram su facebook e che ci seguono anche sul youtube che è molto importante vi ringrazio vi salutano tutte le galline i pulcini quelli nuovi innati che bellini che sono la salute dalla famiglia chiesa ciao a tutti ciao 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 ciao